Mi è capitato proprio da poco di leggere un numero di Magico Vento, scritto naturalmente da Gianfranco Manfredi e disegnato da Pasquale Frisenda, dove si parla di Shakespeare e della fortuna proprio di messa in scena che ha avuto Shakespeare nelle lande selvagge del vecchio West. E in effetti questa cosa che sembra un po' paradossale viene però anche messa in scena da John Ford nel capolavoro Sfida Infernale, in una scena memorabile, questa cosa va a toccare anche il cinema insomma e Shakespeare ispira gli intrecci di diversi western. Per esempio il re Lear è alla base di due film entrambi straordinari, La lancia che uccide di Edward Mitrick e L'uomo di Larami soprattutto di Anthony Mann. E non sarà un caso che la firma in sede di sceneggiatura è di Philip Jordan che evidentemente era un po' ossessionato, ispirato dalla struttura del re Lear. Ma mi viene in mente anche un altro straordinario western, Cielo giallo di William Wellman che invece allude chiaramente nella trama La tempesta. E poi c'è il film a cui volevo dedicare questa rubrica oggi, Dolce Far West, e cioè Vento di terre lontane di Delmer Davies, che è l'otello. È l'otello, storia di ovviamente opportunamente camuffata e cambiata, comunque una storia di gelosia nel West. Ora, Vento di terre lontane esce nel 1956, che io ritengo veramente, l'ho già detto più volte, un anno cruciale per il western, perché è l'anno di sentieri selvaggi, quindi un vero spartiacque a tutti gli effetti. Ed è diretto da Delmer Davies, che è un grande regista, un grande regista che nel western ha lasciato, ha detto insomma una parola significativa. Anche se viene molto meno ricordato di altri autori, e forse non viene neanche considerato un autore, ma limitatamente al segmento western della sua filmografia mi sembra un cineasta di assoluto rilievo. Almeno tre sono i film memorabili, L'amante indiana, che nel 1949 poneva in qualche modo il problema dell'indiano, non ne riconosceva le ragioni, e poi i seguenti l'albero degli impiccati, straordinario western di fondazione, lo definirei con Gary Cooper, e soprattutto quel treno per Yuma, che è il capolavoro di Davies, uno dei più bei western di sempre. Davies è un cineasta con una vena lirica e poetica molto molto sviluppata, Ha un senso del paesaggio assolutamente straordinario, tratta il campo lunghissimo, come pochi sanno fare, ma nel film di cui sto parlando, meno che in altri, diciamo, è veramente un maestro del Dolly. Penso soprattutto a certe sequenze di quel treno per Yuma e l'albero degli impiccati, dove l'uso del Dolly è assolutamente magistrale, ed è capace di legare il paesaggio sterminato al corpo proprio degli attori. Nell'albero degli impiccati in particolare ricordo un'inquadratura di un Dolly che parte da un campo lungo per chiudere sul primo piano di Karl Malden, se non ricordo male, era il suo. E quindi, insomma, un cineasta che gira come fosse un poeta. Ecco, io lo sento molto più affine al linguaggio della poesia che a quello della prosa. E in vento di terre lontane si ripete un pochettino, dicevamo, lo schema di Otello, un vagabondo interpretato da Glenn Ford, questo film tra l'altro da quel treno per Yuma eredita Glenn Ford, ma anche Felicia Far in un ruolo minore. Questo vagabondo che si chiama Jubal, che poi è anche il titolo originale del film, approda in un ranch, viene preso in simpatia dal proprietario del ranch che è interpretato dal grande Ernest Bornein, ma preso in antipatia da un altro lavorante che è interpretato dall'altrettanto grande Rod Steiger, che è Iago poi. Iago, diciamo che in questa versione la moglie del ranchero di Bornein effettivamente dà ragione di essere gelosa perché di fatto si innamora di Glenn Ford, si sente trascurata da suo marito che è un uomo rozzo, lei è una donna di città che viene trapiantata nella Wilderness, quindi insomma ha le sue ragioni, però insomma non si arriverebbe alla tragedia se non ci mettesse sicuramente lo zampino Rod Steiger, che attore assolutamente reverente ai dettami dell'actor studio e in questo senso crea anche una frizione a mio avviso molto produttiva con gli altri interpreti, cioè con un più diciamo tradizionale nella recitazione monolitico Glenn Ford e con la spiccia abilità di Ernest Bornein. Steiger è sicuramente molto incline ai vezzi, diciamo a un certo gigionismo, ecco, e basta vedere un qualunque suo film per rendersene conto, ma non è necessariamente un difetto, qui dà al suo personaggio, diciamo, anche un po' quella grana così di viscidume, di malessere che lo rendono comunque un personaggio memorabile e in un piccolo ruolo, dicevamo, c'è Felicia Farr e anche un giovanissimo Charles Bronson che diventa un amico sostanzialmente del personaggio di Glenn Ford, Jubal. È un film comunque, vento di terre lontane, che diciamo si colloca perfettamente in quella linea adulta del western anni 50 che appunto nello stesso anno ci dà un capolavoro deflagrante come Sentieri Selvaggi, questo pur essendo un film minore però in qualche modo è come se avvertisse gli stessi segnali di crisi e mette in scena un personaggio che, senza svelare molto, per raggiungere il compimento della sua, non dico della sua felicità, però del suo stare decentemente al mondo, deve passare attraverso una prova terribile come togliere la vita, più o meno, diciamo, più o meno costretto comunque togliere la vita al suo migliore amico. E questo su questo dilemma, su questo dilemma morale, insomma, si fonda un po' il nucleo incandescente di vento di terre lontane, film tra l'altro per il quale ebbe parole di lode anche Sam Peckinpah e questo dovrebbe anche un po' parole di lode per il film ma anche per Delmer Davis e questo, insomma, detto comunque da un cineasta che ha rivoluzionato il genere, lo ha cambiato, insomma, però ci dice anche della statura di Delmer Davis che pur non avendo avuto in modo massiccio, diciamo, ecco l'attenzione critica che meritava, resta veramente a mio avviso uno dei grandi protagonisti del western americano. Tanto vi dovevo, vi auguro una buona giornata.